Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, siamo sempre qui su Splatoon 2 Nell'episodio precedente volevo cercare di portarvi Vongol Goal, ma poi alla fine è uscito quella della torre Quindi ci siamo un pochettino incartati Naturalmente questo video è un super commento, un piacere, vi ricordo sempre che vi lascio in descrizione il codice amico Così magari se capita possiamo giocare insieme Detto questo quindi siamo in Vongol Goal, nella ricerca praticamente dei giocatori Speriamo di beccarli quanto prima Ok, forse ci siamo, ho avuto un po' di problemi, cavolo, non ci faceva entrare in partita Vabbè, l'importante è che ci siamo Andiamo di qua Anche se non ci sta una mazza Niente? No? Andiamo sopra? Andiamo sopra? Eh, niente, guarda, guarda Ah, ok Ok, fregato Vediamo di beccarne alcuni Se siamo fortunati Ok Ok Aspetta che sono un po' a corto qua Ce ne sta uno da sotto Non ce la faremo mai di qua Se riesco a caricare giusto l'arma speciale forse ce la faccio Allora io cambio Ok, giustamente adesso che ci serve Vai Tanto ormai non si entra più da là Lo sapevo Lo sapevo che prima o poi finiva così Vai, vai, vai Oh, non mi conviene perché ne ho visto un sacco là, eh Comunque sono tutti quanti chiusi Potrebbe essere una buona partita questa Vai, vai, veloce, veloce Ok Grande Qua ce ne sono delle altre Ok Qua ci facevi salire prima, eh Grande No Occhio che qua ce ne stanno altre Non riesco a passare No Ok Aspetta, aspetta Questo va, questo va, questo va No Porca paletto Ho sbagliato io Come un cretino Mi è venuto l'istintivo da fare Vabbè Non ce la faccio Mannaccia Abbiamo sbagliato là Porca Vedi l'abitudine L'abitudine quando uno poi non gioca E si fa fregare Ah Forse manco conveniva fare il salto Fregato E anche noi fregati Dai, dai Occhio e questo arriverà dietro Arriverà dietro Arriverà dietro Dai, dai, dai No, ce l'ha fregato Dai Dai Dai, che forse se riusciamo a becchiarne qualcuno non sarebbe male Ah, se qualcuno mi desse una mano Forse ce la potremmo anche fare Ma purtroppo non ne tengo altre Mannaccia Non ne tengo altre Meglio che ci andiamo Dai, di là, vai Ok, vai Con me, con me, con me Sì, sì Arriviamo, arriviamo Vediamo se ce la facciamo così Vai No, porra Ma perché Ma io non capisco perché Non me l'ha fatto lanciare Io non capisco a volte Ce l'avevamo pure la cosa per lanciarla Capirai Stanno tutte quante qua Dai Non ne tengo la sufficienza Questa è stata di là Aia A questo punto come ne beccarne qualcuno Vai, luce, luce, luce No Alle spalle Brutta partita questa Abbiamo giocato male Non ce la siamo vista bene Abbiamo rischiato di becchiarne qualcuno all'improvviso E poi, vabbè Ne abbiamo giocato bene Però, ve l'ho detto, ogni tanto Come se avessi sempre voglia C'è tempo di dover recuperare un pochettino Come ci comportiamo Perché a volte si gira meglio A volte si gira peggio Nel senso di Abituarsi con la sensibilità Perché, come sapete, non gioco sempre Però Prima partita Ci dovevo comportare un pochettino meglio Dai Cerchiamocene un'altra Così, però A volte basta poco Per perdere Perché eravamo partiti bene Non eravamo partiti male Ah no, vabbè Allora io Ok Oh, qua ce ne sta uno Mazza quante ne prese Grande Oh, qua ce ne sta un'altra Ma là ce ne sono delle altre Ok Speriamo di riuscire A becchiare Una così là sopra Ok Mi sa che è meglio che mi sposo da qua Manca il tempo di andarci Oh, una strage Tutti là, eh Dai, dai Vediamoci la facciamo Arriva, arriva, arriva Semmi Questa potrebbe non essere Una cattiva squadra Ok, qua ce ne sta qualcuno Grazie che tre si è becchiato Ci stavo aspettando Wow, fantastico Manca a saperlo Che video di? Se ci aspettate tutti quanti Andiamo alla grande Ok, qua ce ne sta niente Occhio, occhio di qua Occhio di qua Occhio di qua Ok Ma no, ma no Ma porca paletta Porca paletta Porca Dai, veloce, veloce Se no non ce la facciamo Te va, arriva Andiamo, andiamo Ok Ok Occhio, occhio Vai Uh, zitto Che ce ne sono tutte quante Ah, tutte le hanno beccate Questo non mi piace Perché in pratica No, stanno tutti quanti qua Ma come alle spalle, raga Ma non c'è nessuno dall'altra parte Ma come io E io che ero convinto E io che ero convinto Grazie Sempre ben gentile Manca il tempo di arrivare Niente Non ce la facciamo, penso Ok, dai che buona qua Oh, manco uno ne ho becchiato Uno Manco uno Aspetta che sto a curto Non c'ho niente Non c'ho Che cavolo prendiamo Oh, chissà perché Quando arrivo sotto Non becco mai niente Ma dai Ah Ma che uno si è incastato qua È con me Con me Con me Con me Cosa Ma perché Non c'ho niente io Qua non c'è Stava anche uno Oh, sì No c'è No c'è No c'è No c'è Sì, sì. Dai che forse ce la facciamo, ce la siamo cavata ad un certo punto, forse è meglio partire da dietro, niente, occhio qua, occhio qua, aspetta, aspetta, ci sta quello che arriva, no, come, cioè io ho lanciato, era la mia era, porca paletta porca, difendiamo, 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 ok, meno male che questa l'abbiamo vinta, grazie. Eravamo partiti male, poi fortunatamente poi ad un certo punto siamo riusciti comunque un pochettino ad acchia parla a volo, è stata un po' più complicata. Eh, noi abbiamo giocato così così però, eh, a volte bisogna prendere la mano, eh, e anche bene. Vabbè, vediamo un po', dai. Che poi io lo odio perché c'è quel punto finale che è un imbuto. e sembra che pare non riesci mai ad andare. Vabbè, comunque, se riusciamo a becchiare qualcosa di qua, prima andando di qua c'è andata bene, se non è andata a mente che qua non c'è sta niente. Aspetta, qua ci vuole essere bestie, eh. Ok. Vedi. Ok. No, mannaccia. Si è stato sfortunato perché tenevo le spalle coperte e non me ne so accorto perché sennò saremmo voluti andare. Andiamo di qua che è meglio, eh. Che ne è male questa zona. Vai. Uh, attenzione. Occhio, occhio. Questi arrivano, eh. Occhio. Occhio che arrivano, eh. Occhio di qua. Se riusciamo a difenderci bene. Occhio, occhio. Ah. Oh, incredibile. Quanto arriva sta... Ok. No, mannaccia, lo stavo becchiando Dai, 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 dai Porca paletta, siamo in inferiorità Vabbè, comunque ce la possiamo ancora fare Vado di qua che è meglio Ecco te, c'è una mazza io E adesso? Veloce, 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 dai Vai, vai, ce l'hai Ecco te, sì, ok, arrivo, arrivo, arrivo Arma speciale, dai Ok, vai Anche io ce l'ho, eh Se ce la facciamo arrivare fino a sotto Occhio No, porca miseria, porca Paletta, porca, paletta, porca No, di qua Non c'è niente da fare Io la ho, sta mappa l'odio Perché arriviamo sempre là E poi è un problema Perché Non riesci mai ad avanzare Uh, quanto ce ne stanno Dai, dai Ok No Non l'avevo visto, non l'avevo visto E quando mi sorprendono così Vediamo se ce la facciamo No, sono spacciato qua Ah, porca miseria, porca Ah, ah, ok Ok C'è, vedi Poi alla fine dei vecchi 60 Uh Ok Vai, veloce, veloce Che fosse Ma come Io becco il razzo Becco il razzo Nel c'è a noi Ma porca paletta Vediamo se qua riesco a beccare qualcuno Se questo ce la fa Se questo ce la fa Ce la potremmo anche fare Occhio, occhio, occhio No, non c'è niente da fare Forse qua ce la possiamo fare Se mi fai andare No Manco il tempo supplementare Niente Ma Qui c'è stata un pochettino più tirata Però Dobbiamo prenderci un pochettino più la mano Perché se ci prendiamo la mano Secondo me siamo più forti Poi non so perché Ma ho giocato proprio malissimo Tre partite proprio brutte Secondo me Non ho giocato bene Vabbè Non fa niente Dobbiamo intensificare Naturalmente qua sono il video Qua se è venuto su Un bel commento Un bel mi piace Ci vediamo al prossimo video Bye Ciao 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 Grazie a tutti.